Siamo qui ragazzi, in compagnia di Giovanni e Carina. Carina è la prima cubana che io vedo con gli occhi verdi splendidi. Vabbè, a parte questo, ragazzi, iniziamo. Conoscete Fiat? La casa automobilistica? Sì. C'è Calderiauto e invece lo conoscete? Sì. Io no. Eccolo Calderiauto. Lo conosco ora. Adesso lo conosco. Allora, una domanda. Quest'anno Fiat è uscito con tre nuove 500. 500 L, che è un'utilitaria. 500 L Trekking, che è una 4x4, un po' più per chi ama l'avventura. E 500 L Living, che invece è una macchina 5 posti più 2, quindi 7 familiare per amici, valigie e tutto il resto. Voi quale preferite? Sicuramente quella più familiare, in modo tale da portare tanta gente in vacanza. Beh, carine. Dai, carina. Dai che c'hai gli occhi verdi, dai. Non è anche per me. No, carina. Allora, carina, Giovanni ti vuole portare in vacanza in 500 L. In quella familiare. In quella familiare. Va benissimo. Perfetto. Ci siamo tutte noi. Sicuramente sì. Ci siete voi due e altre cinque persone. Oppure al posto delle cinque persone. Portiamo la famiglia oppure i bebè. No, meglio da soli. Da soli? Ok, finito. Quindi, considera carina, per te che sei donna, come penso tutte noi donne, il bagagliario di 500 L Living e 638 litri. Il che vuol dire che puoi portare almeno sette valigie. Va benissimo. Va bene? Tutti i cambi per balare tanta... Ma se ci fate al volo un passo di qualcosa? Grazie ragazzi!